Il nuovo regolamento edilizio, approvato lunedì dal Consiglio Comunale di Nocera Inferiore, ha aperto un vivace dibattito non solo tra le forze politiche, ma anche tra i tecnici e dei cittadini. Qualcuno ha anche sollevato la possibilità di una class action contro l'amministrazione comunale, ma il sindaco Malio Torquato invita a non interpretare in maniera errata il provvedimento ed a tutelare gli interessi della collettività e non di pochi cittadini. Suscita da parte mia, ma penso da parte di tutti i cittadini che sono sensibili alle tematiche ambientali e del territorio, una certa indignazione vedere questa levata di scudi che in maniera anche strumentale, e aggiungo in maniera inopportuna quantomeno, se non con gravi responsabilità di carattere giuridico per chi ha reso delle dichiarazioni, questa levata di scudi che è stata fatta da alcuni tecnici in relazione alla delibera di tutela delle aree agricole. Noi lo abbiamo chiarito in Consiglio Comunale e chi oggi ha fatto degli attacchi all'amministrazione lo sa, quindi è colpevole di omissione quando non lo dice o quando distorce la verità dei fatti, che questa delibera rispetta il piano casa, né potrebbe farlo, non farlo, perché è una norma di legge superiore ad un regolamento, e rispetta le normative generali, sovraordinate. Quindi il tentativo che qualcuno fa di voler istigare al contenzioso contro il Comune, anticipando class action o chissà quali azioni di danno nei confronti dell'ente, posso rassicurare che non rimarrà per chi rende dichiarazioni così irresponsabili e gravi senza conseguenze, perché noi abbiamo adottato una valutazione, abbiamo adottato una delibera di tutela delle aree agricole, abbiamo fatto una scelta che ritengo doverosa e coraggiosa, ma abbiamo fatto anche una scelta che rispetta la normativa. Dire invece che queste delibere violano il piano casa o non consentiranno l'applicazione del piano casa è falso e di conseguenza chi ha dichiarato questo se ne assumerà le responsabilità nelle serie opportune. Grazie a tutti.